Abruzzo Engineering cambia nome e amplia le proprie funzioni, diventa così Abruzzo Progetti S.p.A. Le novità sono state illustrate stamani dal presidente della regione Marco Marsiglio, l'assessore Guido Liris e l'amministratore unico Andrea Di Biase. Oltre alle attività già svolte fin qui, Abruzzo Progetti si occuperà, tra le altre cose, di ingegneria idraulica, protezione ambientale, rifiuti e opere marittime e potrà fornire servizi a tutti gli enti pubblici abruzzesi anche in virtù dell'accordo quadro sottoscritto lo scorso 31 dicembre con il socio unico Regione Abruzzo per l'attribuzione in tre anni di 31,5 milioni di euro. La trasformazione non è solo un fatto semantico, fanno sapere dai vertici della regione, ci sarà l'opportunità di fornire servizi essenziali alle amministrazioni pubbliche e di intercettare, tra gli altri, i fondi del PNRR. Diventa un'azienda a supporto non soltanto della regione di cui è un braccio operativo, ma anche da oggi di tutti gli altri enti locali e degli altri enti pubblici che hanno bisogno di incrementare la loro capacità di sviluppare progettazioni per attrarre investimenti o almeno per riuscire a trasformare investimenti e finanziamenti a disposizione in progetti reali. La debolezza delle pubbliche amministrazioni nel saper fare in maniera tempestiva e corretta le progettazioni è spesso il motivo per il quale tante opere non si fanno o si fanno in ritardo. Una delle attività più importanti è quella proprio di assistere i piccoli comuni, i piccoli comuni in difficoltà sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, in mancanza anche di segretaria generale, di uffici per progetti per rispondere al PNRR, uffici per bandi europei, uffici per disegnare le prospettive di un territorio, mancano perché manca personale, motivo per il quale magari con una convenzione come il socio unico di Abruzzo Progetti, appunto la regione stessa, la regione potrà fornire personale adeguato e qualificato ai comuni che porranno quindi rispondere alle esigenze del momento e magari provare a intercettare quel flusso di denaro straordinario che in questo tempo sta calando sul nostro territorio.